Ciao a tutti, oggi bigoli in salsa. Intanto ci vogliono acciughe sottosale, cipolla bianca e bigoli qualità. Partiamo tritando la cipolla bianca finemente. Io consiglio, mettetela un'oretta in frigo, se no finite per piangere come me. Una volta tritata, la mettete su un pentolino e la scaltrite con due testi di occa fredda. Iniziamo quindi con le sarde sottosale, le tagliamo per lungo e con tanta pazienza tiriamo via la polpa dalla lisca. Tiriamo via tutti gli spinetti e quindi la mettiamo sulla cipolla. Aggiungiamo qualche aroma a piacere, un goccio di olio di quello buono e mezzo bicchiere di vino bianco. Possiamo andare per due orette a fuoco basso finché diventa una bella cremetta. A sto punto sale sulla cobollente e giù i bigoli. Tostiamo qualche pinolo e metà li mettiamo sulla salsa. Guardate che cremetta! Pronti i bigoli, li mettiamo sulla salsa e guardate che roba! Mamma mia! Infiattiamo dunque i nostri bigoli, una bella dose di crema, i pinoli tostati e una bella immaginata di pepe fresco. Che bontà ragazzi! Beh, se vi è piaciuto il video mettete un like. Ciao!